Un contenzioso lungo 89 anni tra i comuni di Scanno e Pescasseroli, davanti al commissario per gli usi civici, per stabilire su quale territorio ricadesse parte delle faggete del sito del Coppo del Morto, sulla montagna Grande. Ma il primo cittadino di Scanno, Pietro Spacone, non ha dubbi. È stato proprio grazie a quel contenzioso quasi secolare che è stato vietato l'utilizzo forestale dell'area, che poi è diventata patrimonio unesco. La sentenza, spiega il sindaco, ha stabilito che la zona contesa si trova dentro i confini del comune di Scanno, ma il diritto dell'uso civico appartiene ai cittadini di Pescasseroli. Oggi quell'area, forse proprio grazie al contenzioso tra i due comuni che ne ha evitato l'utilizzo forestale, è diventata patrimonio mondiale dell'umanità. Una grande opportunità, continua il sindaco, che contribuirà a valorizzare e promuovere turisticamente il nostro territorio e darà a Scanno la possibilità di potersi freggiare del simbolo dell'UNESCO. I festeggiamenti sono arrivati in occasione del 95esimo anniversario della Costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Un grazie di cuore riprende Spacone a tutti coloro che hanno collaborato col presidente del PNAL, Antonio Carrara, per il raggiungimento di questo splendido risultato. Un grazie particolare poi va ai padri fondatori del parco, tra cui l'onorevole Erminio Sipari, che 95 anni fa ha voluto la felice intuizione di costituire il Parco d'Abruzzo. Erminio Sipari, infatti, nato nel 1879 e morto nel 1968, è stato un naturalista, ambientalista e politico italiano e fu eletto nel collegio di Pescina, L'Aquila e Celano. Artefice e primo presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, è considerato fra i pionieri della conservazione della natura in Italia e fra i primi fautori dello sviluppo sostenibile a livello mondiale.